Traffico intensissimo a Pasqua e Pasquitta, code e rallentamenti un po' ovunque. La prima ondata di turisti del 2017 ha saturato l'Alto Garda. La folla di vacanzieri, in testa a tutti i tedeschi e austriaci, soprattutto sportivi, ha riempito al 90% tutte le unità ricettive. Sul territorio del Basso Sarca si sono svolte proprio in concomitanza con le feste pasquali, regate e gare motociclistiche. E nonostante il carico aggiuntivo di veicoli collegati agli eventi sportivi, sono stati sufficienti alcuni accorgimenti messi in campo dalla polizia locale per far scorrere il traffico in maniera accettabile. Come indirizzare gli automobilisti in uscita dal molto raduno di Pietramurata verso nord per evitare di incappare nei classici intasamenti delle strade del Basso Sarca in giornate festive. Per quanto riguarda poi l'incrocio di Nago, la polizia locale ha dirottato, in determinati orari, il traffico verso la Mazza ed Arco per decongestionare l'incrocio di Torbole. Anche per quanto riguarda le regate organizzate dalla fraglia della vela di Riva del Garda, gli agenti della polizia locale hanno provveduto, domenica, a razionalizzare il traffico in concomitanza con le partenze dei giovani sportivi, con le famiglie e le imbarcazioni a seguito. Notevole anche il flusso veicolare da Malcesine e Limone, che si è trasformato in coda soprattutto verso Torbole.